Ha accarezzato la foto della ragazzina morta durante la folle corsa del tir dell'orrore sul lungomare di Nizza che la madre teneva al petto. Ha colto l'abbraccio della bambina che ha perso un familiare quella sera di festa del 14 luglio. Stretto la mano commosso alla donna musulmana che piangeva a un parente ucciso dalla cieca violenza di chi si definiva seguace di Allah. Al termine dell'udienza ai familiari delle vittime dell'attentato di Nizza in aula Paolo VI, questo Papa Francesco ha voluto incontrare personalmente uno ad uno chi è stato colpito negli affetti da una violenza che non ha badato all'origine o alla religione. Poco prima nel suo discorso ha invocato il padre perché accolga i defunti nella gioia della vita eterna. Possa questa certezza che appartiene ai cristiani e ai credenti di altre religioni, ha detto il Papa, esservi di consolazione nel corso della vita. Ha pregato per chi è stato ferito, anche atrocemente mutilato, assicurando la vicinanza della Chiesa e chiedendo al Signore che metta nei vostri cuori sentimenti di pace e fraternità. Ha ringraziato chi in ogni modo ha soccorso le vittime e ancora accompagna le famiglie e si era allegrato che tra questi ci siano rappresentanti di tutte le confessioni religiose. Relazioni interreligiose molto vive come a Nizza possono contribuire ad alleviare le ferite del dramma. Per questo Papa Francesco ha ricordato che è un'urgente priorità che i responsabili politici e religiosi favoriscano un dialogo sincero e relazioni fraterne tra tutti i credenti, in particolare tra chi confessa un Dio unico e misericordioso. Quando la tentazione di ripiegarsi su se stessi oppure di rispondere all'odio con l'odio e alla violenza con la violenza è grande, un'autentica conversione del cuore è necessaria. E questo è il messaggio che il Vangelo di Gesù rivolge a tutti noi. Si può rispondere agli assalti del demonio solo con le opere di Dio che sono perdono, amore e rispetto del prossimo, anche se è differente.